Edge Styles è stato inserito nel draft della WWE e lo abbiamo visto anche in carne ed ossa nell'ultima puntata di SmackDown. Le buone notizie per il fenomenale non sembrano essere terminate qui perché Rinside News e altre fonti americane ci informano che stando alle loro informazioni il wrestler ha ottenuto il via libera medico per tornare a combattere e che dovrebbe farlo a brevissimo. Incrociamo le dita perché questa WWE ha sempre bisogno di un combattente straordinario come lui. Voltando pagina, ieri nel live event di Parigi in Francia, Baron Corbin ha ottenuto la sua prima vittoria del 2023. Cioè non era mai riuscito a schienare un avversario nemmeno lontano dagli show televisivi. E invece l'Europa gli ha portato bene visto che è riuscito a battere Rick Buggs. Grazie a tutti.